è un 5 fa vedere non lo so è indecifabile ragazzi questo messaggio mi ha scritto che se il numero è indecifabile non dirà mai lo so ma io se la voi te la do come ti chiami? Cristina Cristina da dove vieni? a Romania a Romania cosa fai che fai in Italia? a lavoro brava chi non lavora non fa l'amore no anche che lavoro non fa l'amore ascolta tu come lo vuoi l'uomo ideale è un uomo con un bel conto in banca è qua bene tieni questo messaggio anche nel libro di Cielo con il Bacca vuole tienilo tienilo tanto non so chi è da l'uomo numero 24 24 chi è la 24 ragazzi? è la 2-4 a qualcuno piacciono le bionde ciao come ti chiami? Milena Milena lei vive da Pesaro cosa fai di bello della vita? eh niente non c'ho più senale eh l'ho capito è una bionda ricca buon per lei sì viva sera viva l'ho viva milenisi